Una manifestazione che si svolge a Camporeale, appunto questo piccolo comune che si trova nell'entroterra palermitano, siamo a cavallo tra le province di Palermo e di Trapani. Ed è una manifestazione che è volta a promuovere e valorizzare tutte le risorse enogastronomiche, ma anche artistiche, turistiche e tutto quello che è il comprensorio della Valle dell'Oiato e della Valle dell'Alto Belice. Viene chi è appassionato, sa anche di cibo salutare, gli appassionati di vino, di vino di qualità, gli appassionati del turismo sostenibile, ambientale, quindi è un pubblico che dà poi il giusto valore a quelle che sono le nostre produzioni, i nostri itinerari, le nostre eccellenze. È possibile degustare i vini di circa 22 cantine diverse, ma anche gli oli degli olifici che fra l'altro proprio in questo momento stanno facendo la molitura e quindi l'olio appena franto. Poi le eccellenze che vanno sull'agroalimentare come le passe, c'è quello un territorio dove c'è anche tanta coltivazione di cereali e soprattutto di grano duro, ma anche eccellenze di farro, di ceci e poi il melograno, quindi tante risorse agroalimentari. Quindi è possibile degustare tutti questi prodotti, ma è possibile anche avere dei momenti di approfondimento come delle masterclass, dei workshop, ma anche dei cookie show con degli chef importanti che vengono da tutta la Sicilia e che prepareranno dei piatti usando come ingrediente principale l'olio, perché quest'anno è l'edizione dell'olio. E poi ancora le visite alle cantine e agli oliifici. Con delle navette sarà possibile spostarsi dal centro della manifestazione, quindi accompagneremo direttamente tutti i turisti, tutti i clienti presso le nostre aziende, ci saranno questi tour e poi finiamo con degli spettacoli artisti di strada, ma per finire con il concerto di Lello Analfino, il DJ set di DJ Delta e domenica la band Jets Swing di Giuseppe Urso.